Ogni operaio, ogni lavoratore, ogni pensionato, chiunque sia vittima di un'ingiustizia, di un sopruso, sa che le sue sorti dipendono in larga mesura dalla forza del Partito Comunista. Quanto più sarà forte il Partito Comunista, tanto più gli operai potranno affrontare a testa alta i grandi capitalisti e i governi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per le giovani generazioni, per tanti milioni di giovani, di ragazze, ai quali questa società non offre sicurezza di vita, di lavoro, non offre ideali che non siano quelli dell'evasione, dell'individualismo. Per le giovani generazioni, per tanti milioni di giovani, di ragazze, ai quali questa società non offre ideali. Per le giovani generazioni, per tanti milioni di giovani, di ragazze, ai quali questa società non offre ideali. Votare comunista significa rafforzare il più solido baluardo della libertà contro ogni politica conservatrice di destra, contro tentativi autoritari da chiunque perseguiti, contro i fascisti. Infine, vogliamo dire, votare comunista significa votare per la indipendenza nazionale del nostro Paese. Grazie. Grazie.